Bene, siamo appena arrivati dalla Val d'Isère, spalato un po' di neve anche lì. Niente, oggi eravamo in pista, anche gli allenatori hanno fatto un'ispezione, come sempre preparata benissimo. Ovviamente è arrivato sto caldo, all'improvviso e anche i prossimi giorni, le previsioni sono non super belle, però siamo pronti ad affrontare questi prossimi giorni con una squadra molto preparata, molto esperta, per quello stiamo calmi intanto, probabilmente riusciremo a fare solo una prova, alla fine basta una prova per proteggere un po' la pista e poi concentrarsi sulle gare venerdì e sabato.